Come si chiamano? Jack e Alice. È ora di andare a nanna. Jack e Alice stavano giocando in giardino quando udirono un suono che sembrava su se sotto. Cos'è questo rumore? chiese Jack. Viene dal bosco, disse Alice. Andiamo a vedere. E se fosse il lupo cattivo? disse Jack. Voglio andare a casa. Non preoccuparti, andrà tutto bene, rispose Alice e prese Jack per mano. Jack e Alice erano quasi arrivati al bosco quando udirono un suono che sembrava... Cos'è questo rumore? chiese Jack. Non mi piace per niente. Andiamo a vedere, disse Alice. E se fosse il lupo cattivo con le sue zampe feroci? disse Jack. Non preoccuparti, andrà tutto bene, rispose Alice. Jack e Alice stavano camminando nel folto del bosco quando udirono un suono. Cos'è questo rumore? chiese Jack. Siamo spacciati. Viene da lì dietro, andiamo a vedere, disse Alice. E se fosse il lupo cattivo con zampe feroci e zanne voraci? disse Jack. Non preoccuparti, andrà tutto bene, rispose Alice. Voglio andare a casa, disse Jack. Voglio stare al calduccio e mettermi il pigiama e rannicchiarmi sotto le coperte. Dobbiamo essere coraggiosi, disse Alice. In quel momento la udirono di nuovo e questa volta era molto vicino. è proprio davanti a noi, disse Jack. Zampe feroci, zanne voraci, il lupo cattivo. Via, urlò Alice. Corriamo dritti a casa. Ma Jack non si mosse. Il lupo non è cattivo, disse Jack. Il lupo è una mamma. Ecco cos'era quel rumore. Mamma lupa sta cantando ai suoi piccoli per farli dormire. Guarda. qua. Senti. Su tutto un bosco è scesa la notte, spande la luna luce di latte. Soffici cuccioli fate la nanna. Dolce viculla voce di mamma. Va tutto bene, disse Jack. Poi fece un enorme sbadiglio. È ora di andare a nanna. E prese Alice per mano. Jack e Alice attraversarono di nuovo il bosco, dritti fino a casa. Poi si infilarono nei loro pigiamini caldi e si rannicchiarono sotto le coperte. E come soffici cuccioli fecero la nanna.